buongiorno ragazzi e ragazze benvenuti questo nuovo video stamattina ci troviamo a lerma precisamente nel parco delle cappane di marcarolo provincia di alessandria zona ovada per un bel giro che ci porterà sul monte rabacan cabra pam buongiorno ragazzi 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 Grazie a tutti. 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 Bene, giro terminato. Siamo fermati anche a pranzo. Agri-Turismo Cascina Cirimilla, consigliatissimo. Ci mangia molto bene, prezzi modici ed è proprio all'inizio e alla fine del tour. Quindi ottimo giro anche oggi. Per i dati altimetrici e chilometraggio vi lascio ai titoli di coda. Ciao, ciao.